Pensavano di farla franca e invece sono finiti manette. Sarebbero due uomini di mezza età e ladri che la notte scorsa, intorno alle 2.30, hanno fatto eruzione nel bar Barbatrucco, nell'area della stazione di Carburantieso, in via Einstein, a Bellocchi di Fano. Dopo aver sfondato un pannello laterale della struttura, sono entrati nel locale e hanno fatto razzia di sigarette. Sulle loro tracce, da diverso tempo, i carabinieri di Osimo, città, in cui i malviventi avrebbero messo a segno altri colpi. Sì, a lei è stata svegliata nel pieno della notte? Sì, da un carabiniere che mi ha, tramite fra l'altro i social, rintracciata, lo conosco di vista, e mi hanno avvisato che c'erano stati ladri nel locale, se potevamo venire a vedere cosa era successo. L'allarme non è scattato? L'allarme non è scattato, no. È perché sono stati talmente bravi da utilizzare il pannello che hanno tolto per entrare nel locale, per farsi scherma del sensore di movimento e quindi non è intervenuta vigilanza nessuno. Una volta arrivati qua avete visto la scena, che cosa è stato portato via? Sono stato portato via praticamente tutte le sigarette che c'erano nel porta sigarette, più quelle del distributore automatico dove ci sono le sigarette e anche quelle del magazzino retrostante al bar. Hanno avuto tempo e modo per agire indisturbati? Avete quantificato il danno? Il danno è più o meno 10.000 euro, più o meno, perché siamo stati chiusi per ferie e quindi non avevamo un grande carico di sigarette gratte e vinci. La banda però è stata fermata? È stata fermata per fortuna dai carabinieri di Osimo che hanno fatto un gran lavoro, infatti vorrei ringraziare pubblicamente i carabinieri di Osimo per il lavoro che hanno fatto e è stata anche restituita la refurtiva del furto. Qui ci sono diverse telecamere installate nell'area? Sì, che sono state manomesse anche quelle del distributore e la nostra è stata alzata verso il soffitto quindi non ha ripreso poi i ladri in azione e hanno messo anche il pannello che hanno rotto come schermo per proteggersi dal sensore dell'antifurto. Avete avuto modo di visionarle prima di darle ai carabinieri? No, perché tanto non abbiamo visto niente perché è stata alzata verso il soffitto. Neanche le altre? Nessun'auto che circolava? Sono stato interessato perché poi sono stati presi quindi di conseguenza non avevano alcun interesse. I due uomini infatti sono stati bloccati dai militari lungo l'autostrada in direzione Ancona, erano a bordo di un furgone bianco. L'area furtiva l'avete già ritirata? È già stata ritirata nella caserma dei carabinieri di Osimo. E lì lei ha incontrato i malviventi? Ho dovuto vedere i malviventi, tutti e due, i due che sono stati presi. Non ha avuto modo di parlarci ma avrebbe un messaggio da lanciare? No, meglio che non lancio nessun messaggio. Potrei essere poco carino, meglio di no. Però è finita bene? È finita bene perché è stata ritrovata l'area furtiva, altrimenti sarebbe stato un danno ingente all'attività. Soprattutto visti i rincari generalizzati? E le condizioni delle attività economiche di oggi non sarebbe stato sicuramente un aiuto. Grazie a tutti.